E poi voglio andare ancora sulle montagne russe D'accordo tesoro, ti porteremo sulle montagne russe non appena tornerò a casa Ora dormi, perciò dammi la buonanotte e passami a casa Ok, notte papà, ti voglio bene Da quando siamo tornati non fa che parlare delle montagne russe Avrei tanto voluto esserci? Sì, sarebbe stato bello Mi manchi Jimmy, manchi a tutte le mie Anche voi mi mancate amore Gli scienziati dell'industria Gentec stanno ancora cercando una spiegazione Per l'evento comunemente noto come l'epidemia Sul luogo sono arrivate le forze speciali governative conosciute come Blackwatch Pensavo che ormai fosse tutto finito Ma ora dicono che c'è di nuovo in giro quella specie di virus Ehi, cerca di stare tranquillo, ok? Sarò a casa tra un paio di settimane E poi magari andremo a stare da tua madre Finché non avranno sistemato le cose Ieri notte a Central Park Una donna e due ragazzi sono stati uccisi Da ciò che i testimoni oculari hanno descritto come un morto vivente Per i dirigenti della Gentec L'assalitore è stato infettato da quello che molti chiamano il virus Mercer Ritenuto debellato dall'anno scorso Ormai quando guardo fuori dalla finestra Vedo solo truppe della Blackwatch Hanno chiudo la scuola di Maya Io non so se dovremmo restare qui Dicono di stare tranquilli, di non causare panico Allora state tranquilli e non causate panico, d'accordo? Sarò da voi domani sera Poi prenderemo Maya e andremo da tua madre, ok? Se hanno contenuto il problema Non c'è motivo di dubitare di loro, no? Molti ufficiali governativi di New York Affermano che la Blackwatch dichiarerà la legge marziale in città Entro le prossime 48 ore A meno che non abbiate motivo di restare Non gli eyewitness news Vi consigliamo l'evacuazione Non si erano mai visti violenza e distruzione Come quelli dell'inspiegabile ondata virale delle ultime 72 ore Sono stati riferiti a diversi avvistamenti di Alex Mercer Individuo ritenuto responsabile della catastrofica epidemia Mi dispiace Mi sento così lontano da voi Mi manchi papà Anche tu mi manchi tesoro Non preoccuparti Papà sta tornando Non si erano mai La mia mutazione è un'attività E' un'attività E' un'attività Il problema è un'attività E' un'attività E' un'attività E' un'attività E' un'attività NINJA 3-3, Chris Okut, mi ricevete? Alletta 1-1 in movimento, arrivo stimato in due minuti Mantenere la rotta Cosa ci facciamo qui? Dovremmo mantenere la pace, proteggere i civili e roba del genere Lasciamo queste stronzate sulla zona rossa alla Blackwatch Merda, vorresti lasciare una missione di pattugliamento a quegli assassini? Farebbero saltare in aria questa dannata città Già, puoi dirlo forte, amico No, 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 no 3-3, qual è lo stato della vostra squadra? Ninja 3-3, qui Shogun, prova, prova, prova Ninja 3-3, vi serve l'acquazione feriti Shogun Qui Ninja 3-3 Ho ricevuto 3-3, come sta la tua squadra? Sto verificando Porca puttana Alex Mercer Alex Mer... Oh merda Red Crown, abbiamo Alex Mercer nella ZR, griglia 3-4 Ripeto Alex Mercer nell'area ZR, griglia 3-4 Attendiamo vostri ordini Ninja 3-3, qui Red Crown Stiamo inviando dei rinforzi alla tua posizione Non ingaggiare Mercer Red Crown, attenzione Non sono della Blackwatch Cazzo Ma... Sto verificando Vediamo quanto vale Cosa diavolo vuole fare? Ma come? Credi che non ti seguirò fin lì? Cosa diavolo vuole fare? Mercer! Non provare a scappare! Oh, merda! D'accordo. Hai finito di fuggire! Cosa? Come può un virus fare una cosa così? Ok. Tutti! Tutti! Stai l'alarca da me! Stranzo. 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 Non temerei alcun male. Perché tu sei comodo. Il tuo pastore e il castro mi danno sicurezza. Stranzo. Nessuno dovrebbe sopravvivere. Il sistema è in preda al virus. Per questo dovrai compiere gli esperimenti, dottore. E se non gradirai i risultati con lo Melorux, cosa fa? È la reproprietà della gente. In emergenza, bruciate la stanza. Bruciarla? No, assolutamente no. Questa cavia è inestimata. Il colonnello ha detto di bruciarla. Ed è quello che farai. È ora di iniziare. Cominciamo con qualcosa di semplice. Un semplice stimolo vitale. Dove sono? Ma che cazzo succede? Fatemi uscire da qui! A tutto è necessario, dottore. Colonnello, la prego. Dobbiamo sapere il più possibile sul soggetto. Ehi, ti sento, sai? Mio Dio. I dati che stiamo raccogliendo sono incredibili. Mai visto niente del genere. Appena esco di qui, vi ammazzo. Ehi, vi sentite? Basta così, è troppo pericoloso. Bruciate. Rooks! No! È troppo prezioso! Non puoi darmi ordini, Kenneth. Tenete male. Premi e pulsate. Sì, signore. Ordine di fuoco dal colonnello Douglas Rooks. Ore 2.23. Chiamate la squadra di pulizia. Guardate che sia morto. Non ho detto. Non è potente per le sue barbari. Non fare l'ipocrità con te. Ho letto i rapporti dei tuoi esperimenti. Nessun segno di vita. Accertatene. Non voglio l'altro Mercer in libertà. Sì, signore. Sparati! Maledizione! Liberate le cavie! Subito! No! Oddio! Oddio! Incredibile! L'ha guarito! Porca puttana! Che cazzo mi ha fatto? Raleigh! Continui a bruciarlo! Volentieri, signore. Heller! Mangiali! Mangiali per sopravvivere! Chiude il becco, dottore! Fate evacuare tutto il personale non necessario. Serve un perimetro di difesa su questo edificio. ricevuto con l'antello Rattler 1-1 in arrivo. È il segnale per andarmi. Pagherete per questo. Merda! Merda! I comandi non funzionano! Tenete sorvegli la sala di controllo. Non si preoccupi, non ce la farà uscire. Oh merda. Ok. Vieni qui, strozzo! Ma che diavolo? Che diavolo è quello? È ciò per cui eri destinato. Ciò per cui ti ho scelto. Che cosa cazzo mi hai fatto? Ti ho iniettato il virus Mercer. È così che lo chiamano, giusto? Lo stesso virus, due anni di fila. È la stessa Blackwatch qui a salvare New York. Sveglia, Eller. Non si tratta di un'epidemia. È un test di bioarmi. Progettato dalla Gentec, controllato dalla Blackwatch e attribuito a me. E ora questo soldato te lo dimostrerà. James Eller? Fanculo! Ti presento il tenente della Blackwatch, Mark Simon. Fanculo! Fanculo! Non lo porti. Lascia ti guidare. Lascia che la verità emerga. L'interferenza di Mercer nella detonazione di New York era già abbastanza. Tazza non può restare in libertà. Oh, teme che possa sputtanare le cose ancora di più. Ero nella squadra della Gentec che ha sviluppato il virus, Simon. Nel 1964. Non rovinerà il lavoro di una vita. Cos'era quello? Ogni essere vivente che consumi ti rende più forte. Prendi la sua forma e i suoi ricordi. Ti ho ascoltato parlare. Ho visto quella cosa strana del virus. Ma non ho visto nulla che mi abbia convinto a crederti. No? Ti hanno tradito, Eller. Ti hanno sbattuto in una gabbia con gli infetti affamati. e hanno cercato di bruciarti vivo. Non ho rilasciato io il virus. E non ho ucciso io tua moglie e tua figlia. Dunque cosa vuoi? Vorresti combatterli? Voglio distruggerli. La Blackwatch, la gente, che è il loro virus. E voglio il tuo aiuto. Ma prima c'è una cosa che devi fare. La Gentec sta facendo esperimenti con il virus. Creando creature infette di ogni tipo. Ti serve quel DNA. Quando sarai pronto, ti troverò. E per amor di Dio, amico, mettiti qualcosa addosso. A la Gentec. A la Gentec. E la Gentec. A la Gentec. Alla Gentec. Ah figlio di... Viper qui 2-5 Ho degli artisti nella griglia 1-9 Ricevuto 2-5, procedure standard Ricevuto Viper Ok Mentecati, in ginocchio E consegnatemi documenti, forza Capitano, qui è uno schifo Possiamo disinfestare? Sì, forse lo faremo Ehi, dove stai andando? Ehi, hai problemi di udito? Ho detto mettiti in ginocchio, fratello Vedo il bersaglio, inviate le forze Merda Ehi, soggetto Tails, uccidilo Rattler, cuba lista 3-4 Andiamo a contatto vicino col soggetto Tails in vetto Andiamo a intercettarlo, parso Merda, devo trovare il riparo Porca troia, questo ci farà conto Ok, mi serve una posizione rialzata Devo scoprire dove sono Comandanti, abbiamo perso il soggetto test Jantec in quest'anno Si chiama James Heller L'esemplare è nero, calvo, di circa 35 anni All'ultimo avvistamento indossava una giacca di pelle Ed è estremamente pericoloso Se avvistate il soggetto siete autorizzati a far fuoco Passo Provate a trovarmi pezzi di merda Aspetta un attimo Conosco questo quartiere Quella è la mia chiesa Chissà se c'è ancora Padre Guerra Mi farebbero bene un po' di consigli spirituali Padre, non voglio farle del male James Questa sì che è una storia Ma non so perché sei venuto qui Perché lei sa molte cose, padre Ascolta la gente Sono qui perché mi serve il suo aiuto Già Ho sentito molte cose Quasi tutte brutte L'infezione Ha colpito tutti Ho cercato di buttare Ho fatto tutto quello Ma poi è arrivata la Blackwatch Cos'hanno fatto? Hanno radunato Quelli sani Li hanno chiusi nei campi Li hanno infettati Messingami insieme Alcuni vecchi amici E io Noi abbiamo Abbiamo cercato di liberarli Ma ci hanno presi E Non si scherza con la Blackwatch Le dimostrerò il contrario Se quello che dice Mercer è vero dovrò controllare la gente che è la Blackwatch Chi comanda qui in zona? Non so come si chiamano ma ci sono due comandanti all'ospedale L'hanno trasformato in un posto di comando James, non fare casino, ok? Padre Padre Se la Blackwatch ha creato questo virus Allora ha ucciso Maya e Colette Tu cosa faresti? Dimmelo Fai attenzione Che cos'era quello? Ora ho anche le visioni, cazzo Non è divertente Perché lampeggia tutto Merda Che cazzo mi succede ora? Figlio di puttana Quello è il tizio che sta cercando Ho un Sonar Virale Faccio attenzione signore L'atmosfera qui si sta surriscaldando Cosa la lascia perplesso? È il dottor Koenig La compassione che ha dimostrato per Eller Non era professionale, era nauseante A che fosse Non è un argomento di cui parlare di fronte a dei soldati semplici Merda William, che cazzo ti fai al centro di comando? Torna alla tua postazione Koenig È quel vecchio tizio dell'agente che mi usava come cavia Me ne occuperò più tardi Prima devo seminare questi stronzi Vai per due Un serrattler Vai per due Vieni Cazzo James, hai trovato i comandanti? Ne ho trovato uno L'altro è scappato Non so dove potrebbe essere Non preoccuparti Ho qualcosa che mi aiuterà a trovarlo Va per tre Qui a Rattler Verso contatto con Viper due Ricevuto Rattler Ci occupiamo di tutti i corpi Dovremmo metterci pochi minuti Ricevuto Tenete gli occhi aperti C'è uno psicopatico a piede libero Funzionarebbe meglio se potessi vedere di più La trasmesso non va succeduto La trasmesso sa Dove devo avere GiMa lo sai E fa GiMa lo sai Che dico Non go Non att incidents Stai Non so perché funziona, ma cazzo funziona. Forza ragazzi, spiegamoci. Cazzo, facciamo uno stile. Cazzo, tenente, lo so. Una sera il mio vecchio caposquadra si è ubriacato e ha attaccato briga col colombolo. Pare sia ancora in ospedale. Mangia con la cannula. Forse stava dando aria alla bocca come fai tu. Mostra un po' di fottuto rispetto. Il colonnello Rooks è quello che ha cercato di ammazzarmi nel laboratorio. Beh, vediamo se riesco a trovarlo. Pare di no. Non ho ancora idea di come funzioni questo coso. Ah, merda. Locksmith, qui Catapult 2-4. Ingaccia i nemici sul ponte. Non ho ancora idea di come funziona. Il colonnello Rux Il colonnello Rux Le squadre Alpha, Beta e Gamma stanno raggiungendo la posizione, mi ricevete? Forte chiaro Alpha 1-1, domanda, le squadre d'attacco sono in posizione? Verifiche completate Cottonmouth, siamo pronti a cominciare il rilascio delle squadre Prepararsi per operazione furtiva Squadre di liberazione sul campo Ricevuto, operazione flytrap approvata Ricevuto Red Crown Comandante, qualcuno sta combattendo con l'esemplare! Non è un civile, è il soggetto terza, cazzo! Mandate subito una squadra di cattura della gente! Distruggono tutto, comandante! Dove cazzo è la squadra di cattura? Lo perderemo! Liberate tutti gli esemplari, dobbiamo tenere occupato il soggetto fino all'arrivo della squadra di cattura! Proviamo un po' questi giocantoli! Squadra di cattura arrivata! A tutte le unità, concentrare il fuoco! Ripeto, concentrare il fuoco! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Fatti gli atteggi, basta! Fermo, è solo un bersaglio! Contor mount, attaccate! Attaccate! 4-2 actual! Abbiamo perso metà dei nostri uomini! Appendiamo ordini, fatto! 4-2 actual! Trinceratevi e sparate meglio! Marco 1, unità in posizione! Incaggiate il bersaglio primario! Ricevuto, Cottonmouth! Andiamo a intercettarlo, passo! Attenzione! Questo massacro dovrebbe ridare fede al padre! Padre! James, sei stato al parco? Sì! E li hai fermati? Ah, li ho fermati per bene! Padre, sta bene? Seguimi! Abbiamo molto da fare! Ci sono 10.000 uomini della Blackwatch a New York e chissà cosa sta combinando la gente e chi in quei laboratori Dobbiamo assolutamente fermarli Dunque si fida di lui? Questo non lo so Ma posso dirti, James, che se Alex Mercer vuole uccidere fino all'ultimo soldato della Blackwatch e della Gentec Allora sono con lui Che mi dice di Dio? È d'accordo? Lascia che ci pensi io D'accordo padre Dov'è Rooks? La sua posizione sarebbe segreta Ma in passato violavamo i terminali della Blacknet per rubare questo genere di informazioni I terminali sono in quelle camionette con satellite che vedi in giro Non sapevo che fossi un ribelle Cosa faceva prima di diventare un prete? Diciamo che mi sono fatto cancellare molti tatuaggi Mi basta Ok, ho un nome Dottor Samuel Billingsley Sì, è il ricercatore capo alla Gentec Direi che ti stai avvicinando a Rooks Mi faccia provare una cosa Bene Sammy sta per ricevere una visita a sorpresa Sabrina Non mi aspettavo di vederla oggi Non c'è tempo per le chiacchiere Doveva fare rapporto 24 ore fa Non ha avuto il promemoria Aspetto di vedere gli effetti sulla famiglia Suarez I genitori sono spacciati Ma i figli sembrano mostrare esiti virali affascinanti Giusto I bambini col cancro al fegato in stadio avanzato Già Che ne pensare? Billingsley non sapeva niente su Rooks Ma so di un laboratorio della Gentec che fa esperimenti sulle persone Molte delle missioni per catturare cavie della Gentec sono monitorate personalmente da Rooks Se arrivi a quella struttura scoprirai dove si trova Rooks Sta roba somiglia sempre di più a una caccia alla volpe Padre Guerra sono al laboratorio Ok James In queste strutture la Blackwatch e la Gentec usano sistemi di sicurezza biometrici Scansioni della retina, test sul sangue Non sarà facile entrare Tranquillo padre Sarà più facile di quanto pensa Mi presti le chiavi? Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Questo posto è di bellissimo Qualcosa si... Non è vero Non è vero Non è vero Accesso accordato Scienziato capo dottor Genovese Guarda qui Ho trovato un VIP Devo entrare in quella stanza se voglio leggergli il cervello a proposito di Rooks Stratus 2-4 Sì grazie Con la maggior varietà possibile di età e di etnie Ah stavolta niente ciccioni Le celle di contenimento sono troppo strette L'ultima volta ci è toccato cassarli e buttarli via Ricevuto dottore Sì grazie a tutti Accetto Consenso Tutto a posto signora Stato Sì grazie a tutti Sì grazie a tutti Sì grazie a tutti Sì grazie a tutti Ancora non sapeva un cazzo Cerca di usare le sue credenziali in un computer nelle vicinanze Forse c'è un database con le coordinate di Rooks Sono di fronte al computer che faccio? Per prima cosa David Sto premendo il pulsante rosso Cazzo ora lo schermo è tutto merda Questa cosa è rotto Ok cerca il tasto alt e premilo A L T Alt Non vedo nessun alt qui Vedo un tasto con una riga mondulata e un altro con un triangolo Ma che cazzo di tastiera è questa? James calmati dovrebbe esserci un pulsante con un quadrato blu Ok Ora si che ci siamo Richiamo il database del personale Bene Ho la posizione Ricorda di scollegarti Sì sì Il terminale 4 è connesso in assenza di personale Tornare in postazione e inizializzare la procedura di disconnessione Vaffanculo Odio i computer Accesso concesso Non c'è 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 James, secondo il database del personale, Rook sterrà un briefing privato nel suo centro di comando tra pochi minuti Bene, ero stanco di inseguire quel tizio Ascolta James, devi fare attenzione, quelle basi sono in massima allerta Ti servirà un travestimento per riuscire a entrare senza farti scoprire Non sarà un problema C'è un problema Grazie a tutti. Grazie a tutti. Queste sono informazioni riservate. Fate subito rapporto al dottor Schaffer. Vi darà le coordinate del sito. Congenati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hai fatto ciò che dovevi fare con Rux? Credo che potrebbe esserci più utile da vivo. Ora sta cercando un dottore dell'agente che di nome Schaffer. Fa degli esperimenti sui civili. Lo conosco. Lavora con il dottor Bellamy. Fanno iniezioni di DNA infetto ai civili. Devi fermare questi test, James. Tutti gli scienziati che hanno a che fare con queste ricerche devono essere, beh, messi a tacere. È la mia specialità. Red ground, c'è James Heller qui a Campo Giulia. Ripeto, c'è qui James Heller. Oh mio Dio. Abbiamo uno sfide. Proteggete i ricercatori. Schaffer, qui vai per due e tre. James Heller sta devorando i vostri scienziati. Cosa? Fermatelo subito. Quella squadra di ricerca ci serve viva. Bellamy qui a Schaffer. James Heller sta devorando la mia squadra a Campo Giulia. Non possiamo perdere la squadra. Sono fondamentali per la fase uno. Sarox, questo è come un sogno diventato realtà. Che diavolo sta parlando, Summetson? Di ciò che la gente che ha realizzato è poter sperimentare su dei soggetti vivi. I campi di rifugiati sono come delle enormi culture. È incredibile. Se questo la rende fedeci. Bellamy qui a Marco. La vostra squadra è stata... sono tutti morti. Cosa? Cosa vi paghiamo a fare? Schaffer, mi ricevi? Dove sei? Sono sul campo di... Vattene! Sto inviando un trasporto da evacuazione alle tue coordinate. Spera solo che io non arrivi per prima. Blackwatch qui Bellamy. Mi serve un trasporto armato per il dottor Schaffer, subito. Qui nome in codice Viper. Evacueremo Schaffer il prima possibile passo. No, evacuatelo ora! Schaffer è fondamentale per le ricerche del dottor Burke. Ricevuto, subito. Viper, qui è il dottor Schaffer. In attesa di evacuazione. Qui Red Crown. Unità corazzata in arrivo alle vostre coordinate. Tempo d'arrivo stimato un minuto. Passo. Presto, vi prego! Porta, dottore. Entri. Avete rovinato tutto. Più di metà della squadra di ricerca del dottor Bellamy. Tutti andati. Tranquillo, dottore. Questa città è piena di cavi. Vi ne porteremo delle altre. Viper 3-4, qui Viper. Abbandonate la zona India Zulu 7 con il dottor Schaffer. Prezzo. Attenzione, uno stile non identificato è in zona. Descri... Viper, qui Viper 3-4. Abbiamo contatto visivo con uno stile sconosciuto. 3-4, attaccate! Ripeto, attaccate! Non è ovvio. Viper, questa cosa ci sta massacrando. Chiediamo rin... Vi prego, non uccidermi! Riquattro, attenzione. Di che città... Mi dispiace! Non ci credo. Le dati dicono danni ai civili per mano di cavi e da laboratorio trasformate in armi. È impagabile. Dottor Schaffer, se non ha nulla da dire a proposito dell'agente, le consiglio di tenere la bocca chiusa. Scusi, signorina Gamble. James, hai ucciso quegli scienziati? Sì. A proposito, ho sentito parlare di una fase 1. Sa cosa sia. Ci penso io. Viper 2-1, ricevete? Rooks, crederà che io sia uno di loro. Viper 2-1, qui Checkmate, mi ricevete? Checkmate. Gli attacchi di Heller contro gli scienziati hanno svegliato il cancro e dorme. La gente che ha accelerato il programma di armamento... Recevuto, ordini, signorina. Proteggete la struttura ad ogni costo. E se vedete Heller, uccidetelo. Ricevuto. James, ho delle informazioni sugli esperimenti sui civili. Stanno facendo delle iniezioni di... di qualcosa. Ecco, i prigionieri l'hanno prelevata da un mostro. Ci penso io. Vado subito a dare un'occhiata. Stai attento, forse ti serve uno... Lo stumino da stronzetto della Blackwatch, ho capito. A tutte le umità Blackwatch, qui è il dottor Ted Bellamy, direttore dei laboratori di ricerca Long Shadow. Le misure di sicurezza biometriche sono operative su tutti gli ingressi principali, compresa la scansione delle brutte digitali e del DNA. Li ho avvisati. Non voglio casini quando vi fermeremo per scannerizzarti. Cazzo, mi sa che quello era un fumatore. Sono all'avanguardia per comodo, sicurezza e pazza. Richiede oggi stessi sulla spita alla manuola che le ha detto di te uno buoni termine. E si no... Avviamento test 416 di estrazione DNA di Hydra per collaude civile e bioarmi. Osservazioni secondarie. Misura di sensibilità a forza e portata dei tentacoli di Hydra. Tentacoli. Sono proprio curioso. Ah, carino. Assessi! Indietro! Mi faccio un concetto! Indietro! Dovrebbe essere il senato! Cos'è che lo ha citato? Deve essere un qualche fattore esterno! Il protocollo non è cambiato! Vedate il concetto! Subito! Comunicati! Viva! Utile nel laboratorio di ricerca! Vengate questo! Lasciami andare! Che cazzo è questa? Puoi andare! Come ci si sente? Esperruptate statica! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uccidetelo! Uccidetelo subito! Bersaglio primario avvistato! Fuoco a volontà! Cazzo, questo rende tutto più facile. Aggiornatemi! Bersaglio primario avvistato! Si sta accanendo sui miei uomini, Burke. Io potrei essere il prossimo. Devo andarmene da qui. Parlerò con Rook se faremo il possibile. Fase 2? Fase 2 di cosa? Viper 1-2, rispondi! Viper 1-2! E' meglio che indossi Viper 1-2. Viper 1-2, qui Checkmate. Mi ricevete? Checkmate. Dovrete scortare un ricercatore della Gentex di nome Bellami alla zona verde. Vi invio le coordinate. Bellami è un VIP della Gentex. È fondamentale portarlo lontano da Heller. Ricevuto. Se doveste avere il sentore di un contatto con Heller, sparate a vista. Abbattete quel figlio di puttana. Ora sei mio, Bellami. Blackwatch. Eh, volevo dire Viper. Qui è il dottor Ted Bellami. Dovrebbero evacuarmi. Dov'è la squadra di evacuazione? Passo. Grazie. Dottor Bellami, qui Viper. Un elicottero è rotto verso la sua posizione. Tempo d'arrivo sfumato tra i 3 e i 5 minuti. Ah sì? Ci penso io. Viper. Qui Viper 1-2. Sto arrivando per fare data fisa al cervellone. Passo. Recevuto Viper 1-2. L'IPA è nostra volta. Almeno non si metterà a blatterare in cabina. Viper 1-2. Non si metterà a blatterare in cabina. Non è un nemico. Viper 1-2. Viper 1-2. Contatto con il nemico non identificato. Recevuto 1-2. Domanda? Identità del nemico? Eh, non è un nemico qualsiasi. È il bersaglio. Recevuto 1-2. Il soggetto è il bersaglio primario. Scacciate l'elicco e attendete l'uomo giurti. L'elicottero arriverà lì presto. Il mio elicottero si è appena schiattato. L'evacuazione di elicottero non va. Preparate un colacciato per Bellamy. Abbiamo Bellamy! Il convoglio in partenza! Pazzesco. Mi tocca mischiarmi insieme a dei bestioni senza cervello. Fatemi indovinare. Voi giocavate a rugby, vero? Tieni il becco chiuso, dottore! O giuro che ti leghiamo e ti trasciniamo come un cane! Cosa succede là fuori? Fatemi vedere! Seduto, dottore! Porca puttana! Le armi del bersaglio sono... sono dei tentacoli! Si tratta di un infetto! Perchè avete fatto questa strada? Siamo completamente esposti! Quando guida lei, dottore, può decidere quello che vuole. Ma per ora tenga chiusa quella fogna, ok? Guidi come un pazzo! Qual è la prossima mossa? Ci schiantiamo contro un muro? Bisogna far chiudere il becco a questo stronzetto. Stavo solo seguendo gli ordini! Il progetto è di Burke! È lui il vostro uomo! Se è così, tu sarai il mio stuzzichino. Heller sta attaccando gli scienziati della gente che non capite! Sta venendo a prendermi! Beh, la farò trasferire il prima possibile nella zona verde. Heller non potrà resistere ad un gruppo di bersagli così ricco. Vuole usarci come esca? Si rilassi, dottore. Presto sarà tutto finito. Padre, ho appena eliminato un altro VIP della Gentec. Mi servono informazioni su un dottore di nome Burke. Credo che sia al comando di un altro progetto Gentec. Cerco subito, James. Padre, sono qui, James. Ho ristabilito i contatti con un'informatrice. Ti fa chiamare Athena. Mi ha segnalato un altro posto gestito dalla Blackwatch, un posto dove entrano molti civili e non esce mai nessuno. Ci penso io. Dottor Connors, con i Python. Un altro carico di esemplari da sperimentazione pronto per la consegna a Eripo Test Jefferson. Bene, l'ultima cella è quasi ripulita. Dateci altri dieci minuti prima di scaricare quei piagnoni. Aspettate, no! Non potete farci questo, vi prego! Oddio! Forza, sbrigatevi! Spietati figli di puttana. No! Che succede? Non vi piace quando un mostro disturba il vostro territorio? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preparate il soggetto undici. Vuoi sapere cosa succede quando rinchiudi delle persone in una stanza insieme a un mostro? Te lo farò vedere. Cazzo, abbiamo uno stile. Capitano, è il soggetto test che era fuggito. A tutte le unità, attaccate lo stile alle mie coordinate. Non siete riusciti a bloccare questo tizio? Cosa siete qui a fare? Io di quella fogna del cazzo, sfigato che non sei altro! Con voi grilletti facili in giro, com'è accaduto tutto questo? Ehi, non guardare me, l'avete inventata voi, la sicurezza biometrica. Non servite a niente, andate a bombardare un paese sotto sviluppato. Senti, perché non te ne stai fuori dai piedi mentre noi difendiamo i tuoi esteri ventini di merda? Capitano! Capitano! Quello strutto ha appena ucciso il dottor Blackburn! Fate qualcosa! Dottore, se non più di questo cazzo di canale, giuro che ti prendo a calci! Capitano! 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 Anzi... E ora provate a colpirvi. Byton Quick Cottonmouth, siamo arrivati sul sito di test e procediamo a sopprimere tutti i nemici. Passo. Cottonmouth, signore, il bersaglio è stato colpito ma sembra illeso. A tutte le unità, concentrate il fuoco. Abbattetelo, cazzo! Byton Quick Cottonmouth, il bersaglio primario ha già annientato metà delle mie truppe. Non ce la facciamo più! Cottonmouth, qui Byton, alle forze aggiuntivi stanno prendendo posizione sul perimetro a basso. Ma che cazzo? Qui non c'è nessuno! Byton verifica le scassioni! È stranissimo! Cottonmouth, disperdetemi! Esaminate la zona! A tutte le unità, Rattler, fatemi un rapporto sulla condizione del gruppo. Rattler, qui è... il bersaglio è morto. Cioè, è lì dentro. Dobbiamo entrare. Era ora. A tutte le unità, Rattler, pattugliate il perimetro che restate dove siete fino all'arrivo del recupero. Grazie per i giocattoli, pezzi di merda. Gli hamburger per cui vanno tutti i passi. Visto! Per aiutarmi! Padre Guerra, è lì. James, senti? Che succede? Non c'è tempo. Arriva la Blackwatch. Sanno che ero in contatto con l'energia. Arrivo il prima possibile. Cosa? No, no! Arrivano da tutte le parti. Ti avviso per tenervi alla larga. E lasciarla morire per avermi aiutato. Al diavolo! Dragon, qui Rattler 1-3. Siamo nella chiesa, ma il bersaglio è nascosto qui dentro, con una calibro 9. Passo! Vi autorizziamo a usare esplosivi. Occhi aperti per il soggetto test. Potete far fuoco su entrambi. Far fuoco? Ve la farò vedere. Andatevene da quella chiesa! Cazzo, è Heller! Il soggetto test che ci è scappato, cazzo! Ricevuto 1-3. Rinforzi in arrivo. Bene. Altra carne da macello. E se quello fosse caduto? Dragon, qui Amered 4-2. Siamo alla chiesa. Quali sono le coordinate del bersaglio? Sono proprio qui! Dammelo! Solo! Un attimo! Porca proia! Il nemico ci sta facendo fuori con il nostro stesso tool! Mi servono rinforzi, porca puttana! Un attimo! Dragon, qui Ballista 3. Stiamo ingaggiando il bersaglio primario. Passo! Non sai proprio quando è ora di arrendersi. Battista 4-1. Non sai proprio quando è la sua situazione. Il nemico ci sta facendo fuori con il nostro studio. E' rinforzata la sottofondo nella parte trasferata. Sì, sì. A presto! Resista, padre! Oddio! Eller si è appena mangiato uno dei nostri uomini! L'ha mangiato, cazzo! Non riesco a... Non vorrò! Padre! Padre, dov'è? Hanno attaccato una chiesa. Una chiesa! Forza! Dobbiamo andare! Coraggio! Avrei dovuto lasciare che mi prendessero. Non c'è tempo per queste stronzate melodrammatiche, ok? Forse non potrà restare qui. Ma non significa che deve stendersi a morire. Cerchi un riparo sicuro. Dico sul serio. Ho bisogno di lei, padre. È il mio socio. James, andrò nella zona verde. Lì è molto più sicuro. D'accordo, padre. La raggiungerò quando avrò finito. Grazie. Nessun problema. James, Athena ha trovato la posizione del dottor Koenig. Ma dai. Forse lo rinchiuderò in una stanza piena di infetti sanguinari. Vedremo se gli piacerà. Ti sto inviando le coordinate. Devi fermarlo, James. E' uno dei migliori scienziati della Gentec. Questo è più che sufficiente. Non posso lo studiare, cercano sempre di tutto il basso. Sono le coordinate di Koenig. Cosa vedi? Un varco per entrare. Hai un po' di DNA? Grazie. Hanno un sacco di sicurezza qui. Dios mio, chissà che razza di esperimenti stanno lavorando. Io lo so. Era una cavia. Dottor Koenig. Sergente L, sono felice di vederti sano e salvo. Non sei ferito, vero? Koenig. Ascolta, ascoltami. La gente che mi costringe a lavorare per loro sono dalla tua parte, non vedi? Non ho forse cercato di tenerti in vita nel laboratorio, eh? Ma non importa, devo avvertirti. La gente che sta sviluppando un programma chiamato Orion stanno creando, come posso dire, dei super soldati e li manderanno contro di te, Sergente. Anche se tu potresti fermarli se agisci immediatamente. Dunque dovrei fidarmi di te. Lascia che ti aiuti, ti prego. O il senso di colpa mi distruggerà. Se dici il vero parleremo ancora. Ti prego, ti prego, il tempo stringe. Il capo dei ricercatori è il dottor David Burke. Sbrigati! Accesso concesso. James, ti sei occupato di König? Non proprio. Ora ho dei problemi più grossi. Ha sentito del progetto Orion? No, cos'è? Un branco di super soldati mutanti che mi dà la caccia. Che hijo di puta! Fai attenzione, James. Dottore, sono nella struttura. È pieno zeppo di guardie, solo dappertutto. C'era da aspettarselo. Se distruggi quei sistemi di comunicazione, non riusciranno a chiamare i rinforzi. We Rattler 2-1, lo stile ha distrutto la torre di comunicazione 1. Ricevuto, fate fuoco sul bersaglio. Ripeto, abbattete subito il bersaglio. James Teller! Hai, chi sono io? Il progetto Orion. Mi sono offerto per il progetto Orion. Hai fatto a te i miei amici strappandogli gli armi. E ora potrò fare lo stesso con te. Ehi, König. Credevo avessi detto che il progetto Orion non era antivo. Esatto. Sì, e allora con tutti il cazzo sto lottando. Oh cavolo, non va bene per niente. Distruggete quell'infetto del cazzo. Orion a terra! Abbattete il nemico! Dottor Burkett, il bersaglio sta camutando la centrale. Riparatela, idioti. Non possiamo perdere la struttura. Porca puttana, l'intera struttura è compromessa. La struttura Orion in condizioni critiche. Evacuazione del personale in corso. Quanti ce ne sono lì di questi stronzi? Qualcuno ha mangiato tutti i suoi spinaci. Quanti ce ne sono i suoi spinaci. Signore, abbiamo dovuto evacuare la struttura. Non c'è più niente. Tutto è stato distrutto. Il progetto Orion è perduto. Non ancora. Abbiamo ancora il soldato fase 2 nei nostri laboratori. Possiamo clonarlo e continuare le ricerche qui. Eller, tutto bene? Il dottor Burkett ha detto qualcosa su dei terreni di prova. Cerca di scoprire di cosa cazzo si tratta e fammelo sapere. Ergenza L! Che c'è, dottore? È il progetto Orion. Ho la posizione del luogo dove eseguono il test. Mandami le coordinate. Subito. Se ti muoverai rapidamente, forse riuscirai a distruggere l'intero programma. Ok, grazie mille. Mi potresti dire a cosa servono questi terreni di prova? Quei super soldati con cui hai combattuto erano solo la prima fase del progetto Orion. Nella fase 2 vogliono fondere quel siero con del DNA estratto da te, ecco. Cosa? Per fortuna i campioni che avevano nella struttura Orion sono stati distrutti. Ma hanno un soldato fase 2 nel terreno di prova. Non per molto. Hanno messo su un'operazione niente male. Ricorda, il tuo obiettivo principale è il soldato fase 2 Orion. Se non lo uccidi, Burke riuscirà a clonare il suo DNA e a continuare con i suoi esperimenti. Fidati, sarai il primo a morire. Esemplare infetto numero 23 in preparazione per l'esperimento bellico fase 2. Se perdiamo quell'esemplare, il nostro lavoro non sarà servito a nulla. Uccidetelo, ora! Cosa? Credi di essere migliore di me? Già, direi sì. Sei già alle corte? No! No! Cosa c'era? Quello... Oddio, è ancora vivo. Dove diavolo è quella squadra della gente? Merda! Ma che... ma che cosa... ma che cazzo era? Attenzione, le letture di Biomassa hanno individuato degli effetti necessari a evacuazione. Eller, che sta succedendo laggiù? Ho divorato per l'Orion 2 e poi... Beh, esploso. Una tecnologia di espulsione di Biomassa. Se consumerai altra Biomassa, potresti riuscire a replicarne gli effetti. A tutte le unità, qui Red Crown. Forze di soppressione in posizione, fatto. Merda! Gli effetti sono usciti dalle campi e siamo sotto attacco! Vai per due e restate in posizione. Il bersaglio primario deve restare sul posto. A tutte le unità, qui Red Crown. Qui è il Dottor Berker. Chiedo un'estrazione immediata. Dove sono i miei uomini? Se prendi il mio DNA, io mi prendo il tuo. Siamo vicini a una grande scoperta. Più che una scoperta è un traguardo personale. Ho osservato Eller, valutato la sua forza. Ora so come distruggerlo. Distruggerlo? Dottor Koenig, che cosa hai in mente? Oh, niente per cui agitarsi. È solo che... La cosa non la riguarda, comandante. Si solo fa il suo dovere. Koenig, vi farò a pezzi come un agnellino. Koenig, volevi incastrarmi. Incastrarti? Di cosa stai parlando? Ho solo cercato di aiutarti. Stronzate! Hai cercato di farmi ammazzare. E ora sto per farti lo stesso favore. Sergente, ti prego. Torna al laboratorio. Se ci siamo capiti male, chiarirò tutti i tuoi dubbi. Sergente. Sergente! Sergente, perché sei così steccato? Ho forse fatto qualcosa per romperti? Basta con la messa in scena, pezzo di merda. Credi di potermi fregare così? Grail! Credo ti avrò già fatto. Dottor Koenig, abbiamo localizzato Eller. Riduci in genere quello psicotico. Mi servirà più di questo per uccidermi, dottore. Oh mio Dio, questi cretini cadono come mosche. Capitano, prepari l'elicottero. Comandante, se quello stronzo mi trova, la faccio licenziare. Ci rilassi, dottore. Le sue coordinate sono top secret. Certo, finché non vengo a mangiarti. Il bersaglio ci ha strappato via i Toe. Il bersaglio ci ha strappato via i Toe, porca troia. Comandante, non osi lasciarsi divorare. Dottor Koenig, mi riceve? Che c'è, comandante? Red Crown ha stabilito il suo rifugio d'emergenza se qualcosa andasse storto con Eller. Verrà portato alla base 7. Con della sicurezza aggiuntiva, spero. Dovrà discuterne con il colonnello Russo. Base 7, crede di potersi nascondere. Attenzione a tutto il personale militare. Brindate questo posto fino all'ultimo centimetro. Vediamo se riesco a stanare quello stronzo da questo burro. A tutte le unità a Queen Rattler. È confermato il contatto fisico con il bersaglio. Ci avviciniamo a... È lui! Eller! È il vostro obiettivo! Uccidetelo! Uccidetelo! Basta con questo tentativo di addosso, Eller. Cerca di confermare un briciolo di dignità. Se dopoderti vivi sezionato, ti manderò un imbalsamatore. Ti appenderò accanto ai miei diplomi. O là qui! L'afforzando la suaśonde! Intenta con questo tentativo di un s compartir film d'in Harris gue? Il vi Steff Ohhh... E 놓ad il libro! E tu ne accumul SLU Asforza! Oись fine! Oисье! Non dobbiamo evacuare, idiota! Credi che io abbia chiesto un elicottero da guerra per gioco? Attacca LR! Faze, che sta facendo lassù? Miglioro i tuoi sistemi di difesa! Tu pilota l'elicottero! Perchè ci stiamo fermando? Tutta colpa delle sue maledette modifiche, ha sovraccaricato armi e sistemi di navigazione! Riparali, idiota! Ci seguiamo! Ma che diavolo? Che cosa sei? Ciò che avresti potuto essere Quello che dovevi essere E ora lo dimostrerò a Mers Io gli proverò che si sbaglia su di te E quando lui scoprirà che tu sei difettoso Io sarò lì a vederti morire Figlio di puttana Ridi pure finché puoi Sei patetico se non c'è Un brutto, un animale Non sei niente Sembra proprio che il niente stia per spedirti sotto terra Cosa speri di riuscire a provare? Non voglio provare un bel giro Voglio solo rovinarti Potrai correre tutto il giorno, Kroenig Stai solo guadagnando tempo È inutile inserire, scatto Potrei condurti in una trap Ci penserò dopo averti picchiato a morte, Kroenig Vuoi una lotta all'ultimo sangue? Va bene Facciamo E non ballerò sul tuo cazzo Spiegnone del cazzo Vuoi questo? Vuoi che mi metta ai soppicati? Voglio che tu stia zitto e muoia Devo dire, dottor Berser Che reclutare gli evoluti tra i ranghi della gente È stata una mossa geniale Scaleremo la loro struttura gerarchica Sabrina Galloway è già in linea come amministratrice Nel caso segui il suo esempio, Kroenig Dovrete essere tutti pronti per fare ciò che occorre Nella zona verde Ma certo signore Beller Dovrei ucciderti Kroenig mi serviva E tu l'hai fatto fuori Come una mosca Beh, forse avresti dovuto dirmelo che c'erano altri di noi in circolazione Per non parlare di un fottuto scienziato pazzo da legare Beh, ora lo sai Siamo nella gente Siamo nella Blackwatch Abbiamo occhi e orecchie ovunque Stai creando un esercito E quando saremo abbastanza Tu e io guideremo un attacco che spazzerà via la Blackwatch e la gente che dà la faccia della terra E' il virus Cosa? Il virus sparirà Giusto? Tutto Fa parte del piano Non manca molto Teneti pronto Fottuto bugiardo Padre Passa a trovarmi nella zona verde Athena ha brutte notizie per noi Anch'io Mercer ci sta prendendo per il culo Sta tramando qualcosa James Non sai quanto sia vero Sto arrivando D'accordo padre A proposito Come ha fatto a raggiungere la zona verde? I punti sono distrutti Non il ponte aereo La Blackwatch manda elicotteri da trasporto tra una zona e l'altra Ho corrotto uno dei piloti per farmi trasportare Non sono bravo a corrompere Credo che prenderò un poveraccio e gli ruberò il posto Ci vediamo presto padre Mi stia bene? Mi stia bene? Sì, sì. Sì, sì. Il sergente Jenkins. Fermi dove siete. Sta per salire a bordo. Richie voto, sergente. Sì, fratello. Quasi tutti gli ufficiali abitano qui. E tutti i tipi della Gentec. Forse ci manderanno via però. Grazie ai tunnel gli infetti di merda entrano qui dalla zona russa. Cazzo che roba. Sei qui per il briefing? Di cosa stai parlando? Il terente Ray li ha chiesto delle altre truppe per delle operazioni importanti. Hai visto che sei uno dei loro uomini di fiducia? Mi chiedevo se fossi qui per questo. Forse è il caso di imbucarmi a quella festa. D'accordo ci sono. Incontriamoci. Abbiamo molto di cui parlare. Sì, direi. Ti sto inviando le mie coordinate. Fa attenzione, James. Questo quartiere non è più quello di una volta. Non si preoccupi, padre. Non passerò col rosso. Cosa ha trovato? Di qua. Ecco, dà un'occhiata I sintomi del virus iniziarono a Penn Station Poi un anno più tardi, la seconda epidemia Un contatto di Atena ha analizzato vettori aerei, acquedotti, ogni possibile trasmissione virale Ok, ma non c'è tempo per questo, Mercer Ecco Aspetti, sta dicendo che la seconda epidemia ha avuto inizio nello stesso luogo della prima Guarda Li ha uccisi lui padre, Maya e Colette Lo so Scopriremo cosa ha in mente, lo fermeremo e poi distruggerò quel suo bel faccino Bene, ma dove iniziamo? Non ho, non ho indizi, e neanche Atena Scaleremo la loro struttura gerarchica Sabrina Galloway è già in linea come amministratrice Sabrina Galloway, è una talpa Mercer l'ha messa a spiare la Gentech Sì, la conosco Ecco, Sabrina Galloway, amministra la Gentech Oggi la Blackwatch terrà un briefing su di lei Dove Ecco, ti ho appena inviato le coordinate per il briefing della Galloway Perfetto, è nella base della Blackwatch Fortuna che ho il mio travestimento da sergente Jenkins Benvenuto nella zona verde, nel sergente Salvatore Quando inizierà il briefing? L'hanno posticipato, gli infetti stanno assaltando l'esercito di quest'area Gravi perdite civili, il QG vuole che risolviamo la cosa Ok Cottonmouth 2-2 attende i suoi ordini Quando hai finito, torna subito qui per il briefing Buona caccia, soldato James, sei al briefing? Non posso parlare padre Se non mi metto a fare i soldati e a spaccare un po' di roba Non arriverò mai a quel briefing A dopo Coopered 2-2, raduno con Coopered 2-1 all'area operativa Muoverci Coopered 2-2 Coopered 2-1, qui Coopered 2-2 Situazione neutralizzata Ricevuto, raduno con le unità nell'area operativa designata Armi pronti all'uso Ricevuto Coopered 2-2 attual Qui Grizzly 2-3 Siamo sotto attacco pesante Sono troppi Ricevuto Kodiak 2-1 Potete aiutare Qui Kodiak 2-1 Siamo sotto attacco Coopered 2-2 Dirigetevi subito al punto d'incontro E' più facile a dirci che a parte Più facile a dirci che a partire Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi tutti. Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi. Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi. Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi. Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi. Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi. Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi. Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi. Su dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarmi. Riteniamo che guerra stia aiutando Heller. Le regole d'ingaggio sono uguali. Tenete gli occhi aperti. I servizi segreti ritengono che Heller stia scalando la gerarchia della Gentech. Una probabile vittima è Sabrina Galloway, il vicepresidente operativo. Rattler 3-1, ti occuperai di proteggerla. Il greeting si conclude qui. Congelati. Padre Ellie. James, stavo giusto per chiamarti. Non ci crederai, ma la Blackwatch sta per rilasciare una cura chiamata White Light. Se ne occupa il comandante Gallagher. Darò un'occhiata, grazie padre. Grazie a te, James. Mi hai ricordato cosa è in grado di fare l'umanità. Già, che grandi cose possiamo fare. Comandante Gallagher, qui Red Crown. Gli infetti hanno il controllo dei punti che portano alla zona rossa. Domanda. White Light pronta al rilascio? Passo. Ricevuto, Red Crown. Abbiamo pronti dei candelotti di White Light. Sgombreremo la strada, passo. Promette male questo White Light. Red Crown, qui il comandante Gallagher. Non dovresti provare a fare questa roba a uno di famiglia. Sapevo che avrei incontrattolo di voi. Red Crown, qui Cottonmouth 2-1. Un nemico ci ha attaccati. Ora stai seguendo Gallagher. E... Gallagher è infetto. Ricevuto Cottonmouth 2-1. Confermare stato di Gallagher, passo. Eh... è uno di loro. Richiediamo ordini. Ricevuto 2-1. Attendete. Passo. Red Crown, attenzione. Entrambi gli obiettivi sono sulla strada. Entrambi gli obiettivi sono precipitati a livello stradale. Ripeto, i bersagli sono a livello stradale. Non sei migliore di beni umani. Alex Mercer non tollera la disobbedienza. E nemmeno io! Direi che è ora di abbatterti. Che fa so' lento? A mia attenzione emergenza! Fermo. Che stai facendo? Pagherai questa bravata con il sangue, Ender. Non ha idea di quello in cui gli stai cacciando. Dunque, vorreste dire che il white light può mutare? No, no. È altamente variabile. Non muta da solo, ma possiamo trasformarlo. D'accordo. Ma in coda. Lei... Lei non ha capito. Non si trasforma in altre sostanze, ma può assumere delle nuove proprietà. Fare cose per cui non era stato progettato. Vuole dirmi che possiamo dargli dei nuovi effetti collaterali. Esatto. Intendevo proprio quello. D'accordo. Ora facciamo un po' di danni. Quella è proprio violenza gratuita, porca puttana. Questa è un po' di danni. Padre, quel comandante del programma White Light pare che sia uno degli evoluti di Mercer. Degli evoluti? Ma perché dovrebbero volere una cura? Non lo so. Sarebbe l'unica cosa che potrebbe abbattere gli infetti e Mercer la sta proteggendo. Non ha senso. Dobbiamo capirci qualcosa prima che sia troppo tardi. James Heller, giusto? Sono Sabrina Galloway. Senta, so bene che può uccidermi, ma prima mi ascolti. La posso aiutare. Lei non è come gli altri evoluti, giusto? Siamo d'accordo? Beh, neanch'io. Lei sta scherzando. Ascolti. Gli altri fanno ciò che Mercer ordina senza discutere. Ma lei no. E neanch'io. Stronzate. Glielo dimostrerò. Posso rintracciare l'evoluto. È un dono. E che dono? L'ho appena colta di sorpresa. Già, è proprio questo il punto. Non posso rintracciare lei né un altro tizio. Un evoluto di nome Roland. Perché dovrebbe importarmi? Vuole forse che uno di noi, completamente irrintracciabile, spi ogni sua mossa per poi andare a riferire a Mercer. Stronza, vi voglio tutti morti e non mi importa chi sarà il primo. A me sì, perciò ci pensi. Ho ristretto il campo su Roland a tre possibilità e posso comunicargliele. Se lo ucciderà, le dirò di più. E io resterò in vita. Che ne dice? Ma da che parte sta, cazzo? Dalla mia. Uno di voi bastardi ha già cercato di fregarmi. Ne è rimasta solo una pozza di sangue. Non pensi neanche per un secondo di impietosirmi. Non si preoccupi. Credo che saremo un'ottima squadra. Allora, so solo che Roland si è mescolato ai VIP della Gentech. La Blackwatch ha mandato una squadra di recupero per salvarli. Se si infiltra in quella squadra, ucciderlo sarà un gioco da ragazzi. Padre, ho trovato la Galloway. E quindi? Dice che se la risparmierò, mi rivelerà le coordinate degli evoluti che lavorano per Mercer. Mi ha già dato un nome. Roland. Molto bene. Qual è il problema? Quella stronza è matta. Non mi fido. E allora, se arrivi a Roland, potresti scoprire qualcosa sul piano di Mercer. Ok. Andrò a trovare questo Roland. Rattler 4-3. Qui è Rattler 4 Actual. Chiediamo aggiornamento sull'unità di estrazione. Qui 4-3. Siamo sul posto, tenente. L'aspettiamo. Sembrerebbe la squadra di salvataggio di Roland. Non gli dispiacerà se vado con loro. Non gli dispiacerà se vado con loro. Ragazzi, la nostra missione è salvare il VIP della Gentec. Muoversi. Wow. Adoro salvare gli scienziati. Chiudi il becco, Starz. So che alcuni di questi VIP sono pezzi grossi della Gentec. Di solito sì. Sono dei merdosi ciccioni col camice. Questi fanno un sacco di soldi. Per loro non sarebbe un problema darci una mancia. Giusto per il disturbo. Non ci pensare nemmeno, Starz. Che problema hai, pezzo di merda? Aspetta. Rendete sicura l'area. 3-4, ingaggiare i nemici. Anniettateli tutti. Muoversi. Al prossimo punto di controllo. Armi pronte. Guardo tutti quei civili. Sai cosa penso? Che si fottano. Che se ne vadano a far culo. Sono stufo di questo cazzo di recupero. Forse un giorno pure tu avrai bisogno di una squadra di recupero. Prendi quell'accia granate. Prendi quell'accia granate. Concentrare il fuoco. Voglio due fucili per ogni effetto. Merda. Attento con quei civili, soldato. Non voglio altre scartocchie tra i piedi. Allora, qual è il suo stato? Non possiamo farci sfuggire Roland. Ho l'impressione che lei non mi abbia detto tutto su questo tizio. È il braccio destro di Messer. Dovrebbe battare come motivo per farlo fuori. Recupera i lanciarazzi. Alcune delle intente sono ancora carucce. Basta solo mettermi un sacchetto in testa. Starts. Come hai fatto a battare il test psicologico? Un'Hydra! Riparatevi dietro a qualcosa! Non state bene fermi, 4-3. Restate in movimento. Vateli tutti a pezzi! Non poterli scappare! Al prossimo punto di controllo, forza. Al telegiornale dicevano che abbiamo bruciato una scuola, che siamo dei criminali. Chissà cosa diranno quando comincerà l'operazione Pyrock. Sono solo per te golecchi, soldato. Non andrà così. Sì? Beh, vedremo. Un genere, la vogliamo con voi. Benvenuto nella zona di Elidio. L'area è sicura, dove la gente sta lavorando duramente per trovare la cura del virus. Un diavolo alla gente. È la più grande gruppa di Elidio. Questo messaggio è tra loro. L'HIDRA! Cazzo amico, fai tanto sport. Mangio parecchie proteine. È tra di noi! Ci sono due HIDRA! Ripeto, due HIDRA! Guardatevi le spalle! Lavoro di squadra, concentrare il fuoco! Siamo sparpagliati, tornate qui! Piantatela di Cincichi Chiara e restate vicini! Merda! Ho appena ucciso due HIDRA! Stasera farò famiglia! Red Crown, qui Rattler 4-3. VIP al sicuro. Richiediamo trasporti, presto! Ricevuto 4-3. Trasporti in arrivo, passo. Galloway, quegli stronzi sono in cinque. Qual è Roland? Non lo so. Per essere sicuri, li uccida tutti. Merda! C'è un infiltrato nella squadra! E va uccidendo i VIP! Uccidete quello stronzo e protegg... Tradito. Elef, era lì. È morto. Quell'infame è scappato. Bella roba. Beh, proverò a trovarlo di nuovo. Qu'è risposta? Cosa è successo, Heller? Roland. Mercer ti ha dato tutto questo potere e tu lo usi contro di lui. Che incauto. Che vergogna. Vergognarmi io? Ma per favore, tu non fai che nasconderti a scappare. Ti stavo solo dando il tempo di arrivare. Vedrai. Atena ha scoperto che il colonnello Rooks sta spostando nella zona verde la squadra scientifica del dottor Koenig. È probabile che alcuni di loro lavorino per Mercer. Se li trovo potrei capire che cosa ha in mente. Proprio così. Il colonnello Rooks ha indetto un brising su di loro e sul nuovo caposquadra, la dottoressa Archer. Atena dice che sostituirà Koenig. In effetti la scelta Rooks. Forse è un'evoluta. Parteciperò a quell'incontro. La mia compagnia sta per raggiungere la squadra del dottor Koenig. E ora il vostro plotone è arruolato. Ora fanno rapporto all'Archer. Chiedi il permesso di parlare, prima di aprire la bocca, merda! Date le recenti violazioni di sicurezza, vi daremo solo le informazioni necessarie. Tutti gli altri dati resteranno tra il tenente Raleigh e me. Inoltre, per non perdere tempo a rimediare alle vostre cazzate, il tenente Raleigh sarà a capo di questa missione. Congelto! Ballista 4-4, il primo gruppo di scienziati è in arrivo al sito 1. Raccoglieteli e portateli al sito 2, vi invio le coordinate. Ricevuto, Castle. Arriviamo. James, che hai scoperto? Gli scienziati sono già qui, stanno arrivando dalla ZG. Sto andando a incontrarli, forse otterrò qualche indizio su questa dottoressa Archer. Bene. Buona fortuna. Ballista 4-4, il primo gruppo di Koenig è atterrato al sito 1. Tempo per il vostro arrivo? Castle, qui 4-4. Arrivo previsto tra 5 minuti. Basta girarvi i pollici e muovete il culo, abbiamo già perso troppi uomini. Castle, qui vai per 4-1. Eller è qui, ripeto. Eller è qui. 4-1, mantenete la posizione e attendete ballista 4-4. Attaccate Eller se potete. Oh mio Dio! Dov'è l'elicottero? Devo andarmene da qui! Merda. Questi qui non sanno niente di Melser. Non penso siano coinvolti. La Gentech dice di aver perso i contatti con la squadra di Koenig. Che sta succedendo? Oh merda. Deve essere Eller! Il sito 1 è compromesso. Non so come abbia fatto ma è stato Eller. Eller non può raggiungere il sito 2. Non deve fallire, tenente! Ci sta lavorando, signore. Andiamo! Padre, quel bastardo, il tenente Raleigh, è secondo in comando sotto Rux, giusto? Se dovessi prendere il suo posto, scommetto che otterrei parecchie informazioni utili. Faccio ciò che è necessario. Ma con uno qui, Castle. Nuovi ordini. James Eller è nella griglia. Battugliate il perimetro e segnalate ogni avvistamento. Voglio che quello stronzo finisca in un sacco per cadaveri. Il diavolo sta facendo. Oh merda! Ha strappato la mitragliatrice da un carro armato! Dove sei, soldatino? Vuoi che ti rompa tutti i giocattoli? Oppure esci a giocare con me? Castle, qui Amered 3-1. Marco 1-2 è fuori dalla griglia. Possibili vittime. Passo. Castle. 3-1, occhi ben aperti. Red Crown, qui Castle. Abbiamo contatto visivo con Eller. Si richiede supporto aereo. Passo. Castle, qui Red Crown. Ballista 2 è in movimento verso di voi. Passo. Castle, qui Amered 3-2. Abbiamo contatto visivo. Stiamo ingacciando. Castle, qui Ballista 2-1. Il battaglio primario... D'accordo, ecco te qui. Non fai più tanto lo spaccone, eh Raleigh? Dove sono i tuoi sedativi? E i tuoi tripleti? Fattuto mostro! Rooks ti ucciderà! Non si penserà che sono te. Raleigh! Ha scoperto dove si trova Koenig? Temo di no, signore. Aveva pieno accesso all'escorte di White Light e la Gentec. E un paio di volte ha deliberatamente nascosto ciò che faceva. Lui e la sua squadra sono sospetti. Castle, qui Checkmate. Dove cazzo siete? Vediamo se sono un bravo attore. Ha ricevuto qui il Raleigh. Voglio dire a Castle. Mi spiace, è successo un casino qui. Cazzo. Porta il culo fino a una zona sicura e richiamami. La dottoressa Archer è sparita. Ricevuto. Padre, la dottoressa Archer è dispersa. La Blackwatch non sa dove sia. Ma stava lavorando su quella cura a White Light. Madre de Dios, dobbiamo trovarla. Non mi preoccuperei troppo. Ora che ho l'identità di Raleigh, Rooks mi dirà tutto quello che voglio sapere. Vieni a smammare, l'arcia è sparita. Vieni a smammare, l'arcia è sparita. Qui Rooks. Può darmi l'ultima posizione della dottoressa Archer. Grazie auguri, l'Archer è sparita. È scomparsa dopo che L'era ucciso i colleghi di Ke. L'ultimo camice bianco a sparire è stato il dottor Gutierrez. Le invio le sue ultime coordinate note. Ricevuto. James, dove sei? Sto cercando un certo dottor Gutierrez, lavorava per l'Archer. Se lo trovo potrò arrivare anche a lei. E magari scoprire di più su questo progetto White Light. Cielos, fai attento James, Mercer è ancora in circolazione. Non penso che gli piaceranno queste interferenze con i suoi piani. Non ho paura di lui. Sono perdendo. Oh, merda. Ehi, tutto bene? Ma cosa non prende? Ehi, ancora? Quello che c'è? Barca puttana! Merda! Vedete anche voi? Ora sì che ci siamo. Così si fa. Abbiamo bisogno di risforzi immediati. Merda, dove è andato? Cazzo. Quello stronzo l'ha fatto solo per distrarmi. James, hai trovato Gutierrez? Forse. Sto inseguendo un altro dei seguaci di Mercer. A dopo. Troppo lento. Troppo lento. Anche, hai trovato solo per ogre. Non c'è noi? Come se non esattezza. Spetta bisogno ove. Non c'è nessun problema. Non c'è nessuna. Ma cosa non c'è nessun problema. Ma cosa non c'è nessuno? E' come una persona. Ma cosa non c'è nessuno? Ciao. Non ti renderò la vita pagina Riporta qui il tuo culo No, non uccidermi, non te ne pentirai Ok dunque, sapete di dover prendere ogni precauzione possibile per questo, giusto? Harry, questo è un messaggio del dottor Koenig e della dottoressa Archer Sai bene cosa significa? Credi che rischierò di deludere Alex Mercer? Bene, ora consegnalo alla base Adams Era lui? No, ma stava portando un messaggio della dottoressa Archer a qualcuno nella base Adams Vediamo se quel qualcuno è Gutierrez No, ma stava portando un messaggio della dottoressa Archer Dunque l'amichetto dell'Archer si nasconde qui Devo farlo uscire Un soldato esploso dovrebbe funzionare Non credo che funzionerà, se mi vedono Grazie Benvenuto nella zona di aerea sicura Dove la gente che sta lavorando duramente per trovare la cura per ieri Barca puttana, cosa diavolo era quello? Teller, non troverai mai la dottoressa Archer Dottor Gutierrez, è sicuro che l'effetto si propagherà? Anche solo un piccolo campione introdotto in una grossa cavia faciliterà la conversione Archer vuole l'esatto processo E farà davvero questa cosa? Ciò che ha descritto? Stia tranquillo Non appena realiterai il collegamento Mercer controllerà ogni goccia di white light esistente Fino a livello molecolare Ok, al diavolo questa roba Troverò Gutierrez e gli chiederò cortesemente cosa sta combinando Mercer con questo white light Padre, raggiungerò Gutierrez tra poco Fai in fretta James Se lavora al progetto white light avrà una scorta Jimmy Eller, ho sentito molto parlare di lei Mi chiedevo se avrei mai avuto il piacere Fantastico, mi dica subito dove l'Archer, cazzo Neanche se me lo chiedesse, per favore Mi chiedevo se avrei Mi chiedevo se di potermi far male Bravo Dottoressa Archer La sua squadra ha raggiunto l'obiettivo L'implementazione è completa al 98% Dottor Mercer Quasi ogni scorta di white light è stata trattata Non basta Le voglio tutte Vuole che torni indietro Il rischio di esposizione è... Se non tornerai indietro Il rischio sarà ben peggiori C'è se non tornerai indietro C'è se non tornerai indietro C'è se non tornerai indietro Padre, non ho idea di dove si trovi l'Archer Ma questo white light Sembra ci sia dietro Mercer Dio, se troviamo l'Archer forse possiamo fare qualcosa Dirò ad Athena di continuare a cercare Tornerò da Rux Si farà viva L, ho trovato Roland È diretto a una sana per nascondersi Sa di cosa parlo quando dico sana? Un buco nel terreno pieno di cose che vogliono uccidermi Non vedo l'ora Potrebbe prenderla un po' seriamente Più passa il tempo Maggiore la probabilità che Mercer ci scopre Beh, merda Non voglio certo farlo arrabbiare L'inseguimento senza senso continua Sì, non ti preoccupare Ci vedremo molto presto, Roland E poi? Mi ammazzerai? E dopo cosa farai? Porrò fine alla cazzo di Blackwatch E poi? Ucciderò Mercer Capisco Anche se dovessi uccidere migliaia di persone per riuscirci, giusto? Che eroe Ho mai detto di essere un eroe, stronzo Non mi stupisce che tu gli piaccia tanto Sei testardo come lui Fantastico Perdo questo Roland E ci guadagno un mostro Cazzo, lo sapevo stessimo giocando a palla Apporta a terra i miei saluti Nesta ricazzo Anche se dovessi uccidere migliaia di persone per riuscirci, giusto? È arrivato il tuo momento. Chi ti ha parlato di me? La Galloway? Forse hai solo bisogno di un po' di tempo per pensarci. Che merda. Non vedo l'ora di pestarti a morte con gli arti insanguinati di questo bastardo. Non vedo l'ora di più. 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 Lo so che sei qui, stronzo. Credi che mi stia nascondendo? Sto solo aspettando che tu ti stanchi. Il bersaglio ha lasciato la tana. Fuoco! e mandami una cartolina. Red Crowell, qui Marco 3-3. Siamo nella merda. Il bersaglio ci sta massacrando. Richiediamo il permesso di raggrupparci. Passo! Negativo 3-3. Il soldato in petto è di massima priorità. Passo. ricevuto! Oh mio Dio! Ehler sta sfondando carri armati a mani nulle! Se ti unissi a me e a Mercer, ci perderemmo in questi stupidi battidelli. Assaggia il mio nuovo giocatore. Non vedo l'ora di più. Grazie. Chissà! Oh! 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 Non hai neanche sentito il nostro piano? Saprò tutto quello che sapete molto presto. Tutto questo per due persone morte? Un mostro come te non può capire. Che pezzo di merda. Vediamo un po' questi piedi. Nessun problema, Leran. Nessuno, signor Mercer. Signore, le mie rotte di trasporto aggirano la sicurezza della Black Watch. Dunque tutte le scorte di White Light stanno attualmente lasciando la zona verde? Sì. L'operazione potrà iniziare appena avremo l'ordine. Sì. 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 Red Crown, qui vai da 4, attenzione, c'è una foria... Dottoressa, che sta facendo? Armiata, aereazione d'emergenza. Dottoressa, dottoressa, la trascinerò di peso se serve. Venga via! Venire qui è stato uno sbaglio. Pensate di essere meglio di noi, vero? Stai attento, Ellison. Stai per imparare la tua ultima lezione. Oh, se ne ho bisogno posso chiamare degli altri amichetti. There you are! No! Dai, ne arriveranno molti altri Sorpresa, figlio di Portana No, 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 no No, 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 no Se volete un lavoro fatto bene No, 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 no No E' in ritardo, Ellie Ho già fatto Maneggiate il campione con attenzione, Jenkins. Vale molto più di te. Dottoressa Archer, è vero, la cultura che state iniettando nel White Light deriva da Alex Mercer in persona. Già, ecco perché devi trattarla con riverenza o ne pagherei le conseguenze. Non è vero, la cultura che state iniettando nel White Light deriva da Alex Mercer in persona. Oh merda, Heller è ancora vivo e sembra che abbia il controllo degli infetti. Checkmate qui, Catapult 4-1. Siamo attaccati dal bersaglio primario, passo. Ricevuto. Ma che? Checkmate! Infetti a ore 6! Ci stanno lanciando! Oddio, ci lanciano di tutto! La situazione è fuori controllo! Ah, siete degli stronzetti affamati, eh? Chissà se sanno riportare i bastoncini. Hai trovato il necessario? Non proprio. Mercer ha contaminato il White Light con una coltura di sangue. Il suo sangue. Non promette bene. Chiederò ad Athena di trovare le coordinate dei depositi di White Light. James, gli evoluti hanno alterato le scorte di White Light. Athena dice che usano le strutture della Black Watch per rilasciarlo. Cosa dovrebbe fare? Non lo sappiamo. Ma un container non può incidere su più... di 20.000 metri cubi. Quindi se provassimo un rilascio controllato per vedere cosa fa... Athena mi ha fornito la posizione di un carico di White Light già manomesso. Se vuoi attirare l'attenzione di Mercer, ti sarà sicuramente d'aiuto. Ma James, ascoltami. Ho già visto quella luce nei tuoi occhi. Negli occhi di chi sprofonda, di chi si allontana dal mondo. Ti prego. Nonostante questo, cerca di non perderti. So quello che faccio, padre. No, Mito. Temo proprio di no. Tu? Come cazzo ti chiami? Anderson. Eseguiremo un rilascio limitato prima di passare all'intera area. Cominciare subito lo spiegamento. Cosa? Adesso? Di cesso a serio? Ma è contrario al protocollo. Io non posso... Caporale, apra le valvole. Sì, signore. Che cazzo sta affacchando? Merceri non funzionano! Buonissimi. James, cosa ha fatto? Mi spiace, padre. Non posso parlare. 3! Perciò... Red crown, il white flag è stato compromesso. Ha infettato raffer 5-2, 3 e 4. Ricceduto 3-3. A piccolarità, priorità. Il rilascio del white flag è stato controllo. Terese sicuro tutti i depositi. Passo. Red crown, non so bene quello che ho visto. Diteci cosa fare, Red crown. Finito. 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 Red crown, qui la situazione è fuori controllo. Attendiamo ordini. Passo. Mantenete la posizione. Squadra Gentech in arrivo. Passo. D'accordo, madre Quel White Light Ha creato degli evoluti e ha ucciso o infettato tutti gli altri Madre de Dios Era questo il piano di Mercer Avvelenare il White Light in modo che diffonda il virus invece che curarlo James, c'è un deposito di White Light Devi raggiungerlo in fretta e assicurarti che nessuno provi ad aprire quei serbatoi Ci penso io Red Crown, rileviamo una forte presenza infetta nei paraggi Ricevuto 3-3, identificate l'infetto, passo Non saprei Qualunque cosa sia, è enorme A cazzo Pensi se la gente che avesse rilasciato tutto questo White Light L'intera città brulicherebbe di evoluti Mercer Non mi capita spesso di essere così deluso da qualcuno, Sergente Eller Hai rovinato tutti i miei piani Hai sprecato tutto quel White Light Quello che avevo pianificato per te Tutto quello che ti ho dato Non sei neanche in grado di apprezzarlo Non so di che cazzo stai parlando Un vero spreco Addio Eller Non puoi uccidermi Non puoi uccidermi pezzo di merda Ora vediamo se questo vale anche per te Sarebbe stata una morte a rapida Ma ora Ora ti farò soffrire Chase! Che stiavolo sta succedendo laggiù? C'è un Godzilla alto 20 metri diretto al deposito di White Light E puota madre Lo avrà mandato Mercer Devi fermarlo prima che danneggi i serbatoi di White Light Padre, si ha delle idee Chiudo! Red Crower, qui Rattler 1-2 Forniamo documentazione visiva di... Destruggeteli! Cosa gigantesca Richiediamo ordini Ricevuto Rattler 1-2 Rezzati in attesa di ordini In attesa Ma mi prendete per il culo? Dai! Porca puttana E Jane Seller ha appena strappato una gamba alla creatura Morda droga Adivano un piede Creatura eva Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ha visto qualcun altro, cazzo? Porca puttana! Grazie a tutti. No, gli infetti sono qua fuori. Vada via subito da lì. C'è tempo. Madre di Dio, sa chi diventa l'antico? Sto spostando la porta! Padre, tenga duro! Correggiamo l'antico! Padre, padre, mi risponda! Red ground, qui tower 2-3! Ho appena visto Alex Mercer uscire da un'abitazione a sud della zona verde! Merda! È la casa di padre guerra! Questa è la casa di un'abitazione a sudore. Padre! Maia? Julian Sauer? Maleduzione! Oddio, è morto, vero? Padre Guerra è morto! Che cazzo sei tu? Merda, non ti sento! Ascolta, sono il suo contatto, Athena! Posso aiutarvi? Vieni a trovarvi nella zona rossa! Io spero che tu mi senta! Mi chiamo Dana Mercer! Sono la sorella di Alex Mercer! Io ho informazioni su tua figlia! Maia! Devo entrare nella zona rossa! Ma dove devo cercare, Dana? A tutti gli elicotteri Catapult, qui Catapult! Abbiamo scoperto che la ribelle civile... Usa il nome in codice, Athena è Dana Mercer, la sorella di Alex Mercer! Presentatevi nella zona rossa per una missione di ricerca e distruzione! Passo! Se voglio trovare Dana, temo proprio che dovrò unirmi a questi pagliacci! Non credo proprio! Tra un paio di minuti indosserò il tuo volto! A tutte le unità, qui in Southbound! Il complesso è sotto attacco! Organizzate le difese di perimetro, presto! Catapult 4-1, decollate! Cazzo! Catapult 4-1, dove siete? Catapult 4-1, prova! Eh, Southbound, sto sostituendo Catapult 4-1! Bruton gli ha appena staccato la testa, sai com'è? Sì, capita spesso da questo party! D'accordo, nuovo Catapult 4-1! Sei pronto a prendere Athena? Decollerò tra un istante! Southbound, qui Catapult 4-1 in rotta verso la zona rossa! Ritubuto 4-1, buona fortuna! Ne avrete bisogno laggiù! A tutti gli elicotteri Catapult, qui in Locksmith, benvenuti nella zona rossa! Raggiungerete Catapult 4-3 al sito Alpha! Catapult, con tutto il rispetto! Pensavo stessimo cercando Dana Mercer! Non preoccuparti 4-1, abbiamo un camion del segnale al sito Alpha che sta rintracciando Dana Mercer! La nostra missione consiste nel proteggerlo! Se ci riusciremo troveremo quella montanella! Quattro 1-1 dice che sei un verginero della zona rossa! Sì, più o meno! Quattro 1, sei avuto come una bomba, tutto ok? Tutto ok, guardavo il paesaggio! Quattro 1, quattro 2, abbiamo perso i contatti con Catapult 4-3! Raggiungete il sito Alpha per riempire! Quattro 1, quattro 2, abbiamo perso i contatti con Catapult 4-3! Raggiungete il sito Alpha per riempire! Gli incetti assaltino questo camion! Catapult 4-3, sono nell'unità telemetrica! Datemi solo qualche minuto! Ho quasi ottenuto la posizione di Dana Mercer! Quattro 1, quattro 2, avete sentito l'ingegnere? Proteggete questo camion! Ricevuto Locksmith! Ricevuto Locksmith! Elicotteri al salvataggio! Yeehaa! Datapult 4-1, qui Locksmith! Abbiamo perso 4-1, è tutto in manotura! Ha ricevuto! Locksmith, qui Cypher 2-3! Ho le coordinate! Le sto scaricando su una chiavetta! Che cazzo! La terra sta tremando io! Oh! Merda! Locksmith, evacuatemi subito! D'accordo, devo raggiungere la base Hotel 2-7. Quando i dati verranno decodificati sapremo dov'è Dana Mercer. Catapult 4-1, porta subito l'ingegnere Hotel 2-7. Resta lì fino a nuovi ordini dopo aver concluso il trasporto. Dovrai tornare sul campo per attaccare Dana Mercer. Ha ricevuto Locksmith. Base Hotel 2-7, qui Locksmith. Catapult 4-1 è in arrivo, priorità di autorizzazione assoluta. Aprite subito la piattaforma. Locksmith, qui Greenback da Hotel 2-7. Piattaforma disponibile per l'atterraggio, passo. Ho bisogno di un'unità di decodificazione e di un terminale Black Red, subito! Ok, sta caricando. Dai... Chi siamo? Abbiamo l'indirizzo di quella puttata e un sacco di altre informazioni. Trasmetto subito le sue coordinate. Catapult 4-1, hai una posizione. Colpisci quelle coordinate con tutti i metri che hai a disposizione. Fai sparire quella troia dalla forza della terra, passo. Ha ricevuto Locksmith. Vi garantisco che non la vedrete mai più. Danna Mercer. Eh? Chi è? Chi cazzo ti ha dato il mio numero? Ora tutta la Blackwatch ha il tuo numero. Heller? Merda, sanno che sono qui. Ti sto mandando delle coordinate. Ci vediamo lì tra un'ora, ok? Ci sarò. Ok, è laggiù sul tavolo. È nella zona rossa, so solo questo. Forse è in qualche base segreta. È viva. L'ho sempre... Sperato. Vieni, siediti. Confrontiamo gli appunti. Heller, anche se sapessimo dove nascondono Maya, Alex è ancora là fuori e non si fermerà. Tutta la città è in pericolo. Non mi importa niente di tuo fratello. Eh? Ma dove vai? A cercare mia figlia. Farò a pezzi la città se sarà necessario. Heller, aspetta. Fermo, ascoltami. Aspetta. Che c'è? Pensaci un secondo. La Blackwatch e Alex vogliono distruggere la città. Se uno di loro ci riuscisse a trovare Maya sarebbe inutile. Morirebbe comunque. Cosa vuoi dire? Cercherò io Maya. Posso farcela. Ma occuparsi di Alex e di un esercito di uomini armati è roba per te. Heller, ha pochi isolati da te. Sta succedendo qualcosa. Stanno arrivando un sacco di truppe della Blackwatch. Ok, vado a dare un'occhiata. A tutte le unità, Queen Straight Jacket. Se trovate un barile di White Light, allertate Red Crown e trasportatelo immediatamente alla base India 9-6. Passo e chiudo. Hai sentito? Pare che abbiano capito che il White Light sta peggiorando la situazione invece di migliorarla. E tanti saluti al piano di Mercer. A tutte le unità di India 9-6, Queen Red Crown. Rileviamo presente in fetta in avvicinamento alla vostra posizione. difendeteli fino al completo rilascio del White Light. Passo. Non l'avrei mai immaginato, ma forse è meglio se dai una mano alla Blackwatch. porta queste armi all'inceneritore. Oh mio Dio, la Red Crown qui Torchlight. C'è un'ondata di infetti che ci viene incontro, cazzo. Eller, aiuta la Blackwatch a difendere quell'inceneritore, almeno finché non arriva l'ultima partita di White Light. Perciò di avere un esempio in tutto il suo popolo? Sì, perciò che non evitiamo la nostra protezione. Bene, ma bene, non dormiamo le sue. Stray Jacket, qui Rip Died 1-3 Abbiamo qui un ultimo carico di Wild Ride Passo Ricevuto 1-3, dirigente via Vinceneritore Stray Jacket, siamo sotto attacco Ripeto, gli infetti stanno puntando al Wild Ride Rip Died 1-3, qui Stray Jacket Inviamo risposti, passo 1-3 1-3 Ah, sembra che io ce l'abbia fatta Passo Aspetta, c'è qualcuno in mezzo alla strada Stray Jacket Merda Red Crown, qui Stray Jacket Chiediamo una squadra di recupera gente Presto, trasmetto le coordinate Eller, siamo nelle tue mani Devi mettere quei bidoni nell'inceneritore Meno male che sono già infetto Ja! Ma czym, certo! Pagno! Grazie! Finitelo! 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 Red Crowl, quei straightjacket! Ci sono barili fallati! Disperdono il White Lake comunque! Presto raggiungerò la atmosfera! Dun! Che succede se il problema raggiunge la atmosfera? Siamo fottuti! Ok. Uccidete! Finitelo! Elers, la nube di White Lake si sta ingrandendo! Presto! Ero! Un po' nella Quattro! Ero! Un po' iniziato! Un po' iniziato! Qui! Attaccate! Attacce! Attacce! Attaccia! Attaccia! Guardatevi via, mandiate rinforzi, convergo! Sembrava l'ultimo Anche la nube di Whitelight si sta disperdendo Mercer non sarà contento E Maya è al sicuro Per ora Dana Dana Alice, sono Sabrina Galloway Devo parlarle del progetto Firehawk Sa di cosa si tratta Mi suona familiare Ma perché dovrebbe importarmi? Mi creda, le importa Mi raggiunga e ne parleremo Mi invii le coordinate Ce ne ha messo ad arrivare Ringrazio che sono qui Ehi, lei mi è debitore Lei vuole qualcosa da me Di che si tratta, eh? Protezione? Una via di fuga da questo buco del cazzo Ho informazioni su un'operazione della Blackwatch Roba che scotta Deve cercare il comandante Cantrell Ok Torni alla Blackwatch e cerchi di saperne di più Cosa? Sono quasi morta per saperlo Chiedermi di tornare indietro è un suicidio Non lo sto chiedendo Maco 33, qui comandante Cantrell Richiedo mezzi corazzati aggiuntivi alla base in via 7-9 Ricevuto Red Crown Inviero Oscar 5 charlie alle vostre coordinate Basso Finché non avremmo messo a punto i piani Fairo Isolate tutto Nessuno entra o esce da questo edificio Puoi chiudere tutte le porte E spegnere tutte le luci, Cantrell Ma non puoi proteggere quei piani in eterno Questa base è isolata Pare che Cantrell non andrà da nessuna parte Lei è un soldato, giusto? Sa come si fa a interrompere un isolamento? Basta fargli attivare i protocolli di sicurezza E l'isolamento viene interrotto Insomma, qui ci vuole un bell'incendio Heller, che idea Si è spremuto le meningie Stronza Il bersaglio primario punta all'equipaggiamento Sparate per uccidere Copperhead Ma che cazzo sta succedendo là sotto? C'è fuoco dappertutto, porca troia Il bersaglio primario cerca di farci violare l'isolamento E allora vedi di smettere la Copperhead Dobbiamo pensare a un piano Sparate per uccidere la Jack Maite, qui Copperhead. La sicurezza del comandante Cantrell è compromessa. Passa. Merda. Dobbiamo portare Cantrell fuori di lì. Sono troppe cose per rischiare. Allora, Lenorux, non scapperemo come dei vigliacchi. I miei ragazzi possono occuparmi... Non si preoccupi. Presto arriverà in un luogo sicuro. Mayday! Mayday! Contatto con diverse creature volanti. Richiede rinforzi. Mayday! Precipitiamo! Mayday! Mayday! Stiamo precipitando! Mayday! Catapult 4-4 è a terra. Il pilota è morto. Ci sono infetti dappertutto. Mi serve una squadra di recupero. L, se perde Cantrell non saprà mai cos'è questo Firehawk. Si muova! Let's come out! Qui è un massacro, cazzo! Mi serve evacuazione! Catapult 4-4, qui in Rade Crown. Squadra di recupero inviata alle vostre coordinate. Catapult 4-4, qui in Rade Crown. Fatelo a pezzi! Stanno subito danni. Richiediamo rapporti. Ora basta! Oh merda! Certo che stiamo spendo danni! Vorrei vedere voi al nostro posto! Stanno subito! Non ti impicciare, Heller. Cantrell è nostro! Prendetemelo pure, se ci riuscite. Gatto! Sto affrontando una donna armata di frusta! Forse l'ha mandata a Messer. Sarà anche lei alla caccia dei Firehawk. Spendono. Distruggeteli! Porca Trois! Ora c'è una donna con delle braccia a coltello! Sta saltando dappertutto! Ora non sei così veloce, eh? Ora trova a colpire! Red Crown qui ballista a 4-2! Siamo arrivati sul luogo dell'impatto! Il bersaglio primario è sul posso! Ripeto, il bersaglio è sul posso! Passo! Questo rende tutto più facile! Centro! Centro! Red Crown, di qualsiasi arma si trotti è troppo per noi! Non riusciamo a difenderci! Red Crown, qui Comandante Cuntress! San culo l'evacuazione! Riesco a camminare! Abbiamo le previsioni dei venti? Sì signore! Stamattina insieme all'ultima spedizione di reazioni! E? Con la terra ferma satura, il grosso dell'eccedenza dovrebbe disperdersi all'arco! Perdite? Sterminio totale degli infetti, circa un milione e mezzo di non infetti! È accettabile! Procediamo! Un milione e mezzo, figli di puttana! Che cosa cazzo hanno in mente? Castle, qui Checkmate! Tornate subito alla base, passo! Ricevuto Checkmate, sto arrivando! Chissà cosa vuole! Galloway, mi parli? Ehi, come brusco! Un po' di gratitudine? Lasci stare! D'accordo! Il suo spettacolino con Cantrell li ha spinti a indire un incontro di tutti i comandanti in massimo livello di sicurezza! Pottuti ufficiali, se la farebbero addosso per un'unghia spezzata! Ho individuato uno dei loro piloti, Lincoln, il tuo accesso! Ok, mi serve altro! Altro? Vaffan... Dana, hai sentito? Fino all'ultima parola, anche se la prenderei a cazzotti volentieri, direi che è meglio che tu segua quel consiglio. Se riesci a scortare l'altro mezzo fino al punto d'incontro, riusciremo a scoprire cosa hanno in mente. Nonoks. Grazie a tutti. Qui Red Crown, qui Oscar Seilina. Abbiamo un intruso a November 6. Qui Red Crown, coprite il trasporto del comandante Ellis e neutralizzate il bersaglio. Passo. Ballista 2-2, qui Red Crown, ricevete. Red Crown. Oscar Seilico, spostatevi su Lima Zulu 1-9 Juliet e scortate il comandante Ellis fino al punto di raccolta. Passo. Ricevuto. Ballista 2-2, qui comandante Ellis. Grazie per la scorta. Dovete chiudere il gruppo e tenere gli occhi ben aperti su tutti i nemici aerei, ok? Non voglio far aspettare gli altri comandanti Firehawk. Ah, anch'io vorrei scambiare due parole con i tuoi amici del progetto Firehawk. Mi hai appena condotto da loro, idiota. Dovete chiudere il gruppo e tenere gli occhi ben aperti su tutti i nemici aerei, ok? Tutto davanti a noi. Affermatevi Capitano. 2-2, scomberateci la strada. Abbattere gli uccellini. Guardate, questa città è un cesso. Piena di malattie e contaminata dal White Light. Se solo ci fosse stato un altro modo, Firehawk ci scatenerà contro una rivolta. Continua così e ti assumo come pilota personale. Guardali tutti quei civili che corrono in giro. Tra qualche ora saranno tutti morti. E' un peccato che debba finire così. Non vedevo un pilota così dai tempi della Corea. Niente male, ragazzo. Niente male affatto. Non mi ero mai sentito così sicuro su uno di questi aggetti. All'inizio 2-2, qui in Red Crown. Cacciate la griglia 6-2. Trovate gli insetti. Recivuto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma guadagneremo del tempo finché non ne sapremo di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati all'ultimo punto di controllo. Ballista 2-2 si merita una medaglia. Ballista 2-2 si merita una medaglia. Atterrate e fate rapporto per il detrilling. D'accordo James. Ora consuma quei comandanti prima di perderli. È l'unico modo di scoprire cos'è questo Pyrock. Tranquillo. Tranquillo. Ci penso io. Arca puttana. Abbiamo un idro all'ingresso principale. Arca puttana. Abbiamo un idro all'ingresso principale. Contatto visivo con James Heller. A tutte le unità. Massima allerta. Attaccatevi. A tutte le unità. Qui Red Crown. La vostra misura è ingaggiare e agitare James Heller. Ripeto, ingaggiare James Heller. Quale di questi stronzi è, Elvis? Cazzo, questi bastardi dei briefing sono tutti uguali. Stai pensando da camice bianco, figliolo. Non da soldato. Il gas nervino non avrebbe causato danni strutturali. Avremmo potuto rioccupare l'area entro 72 ore. In questo modo avremmo una perdita totale di popolazione e territorio. Strategicamente è inadeguata. No, tutti. Non è nadie che del caso. No, non è chi figurato. Donna, ci sei? Ti sento, James. Stai bene? Abbiamo bisogno di saperne di più su questo maledetto Firehawk. Qualsiasi cosa sia, spazzerà via la città. Moriremo tutti. Io, te e Maya. Cercherò di scoprire tutto ciò che posso. Pare che lei sia ancora viva. E non grazie a lei. Ascolti, il progetto Firehawk è un bombardamento. Vogliono bruciare la città. Questo lo sapevo già. Mi servono i dettagli. Eccoli qui. Ci sarà una flotta di elicotteri con razzi termobarici. Colpiranno per prima la zona rossa, poi il resto di New York. Come fa a collaborare con me, James Heller? È un mistero. Continua a sognare. Beh, dove sono questi elicotteri? Hanno delle piattaforme multiple intorno alla zona rossa. La prima è in un vecchio porto sulla riva est del fiume. Tutti in fila. Effetto domino. Non è un vecchio porto sulla riva. No. No. Red Ground, qui Bishop. Uno stile sta attaccando gli elicotteri Firehawk. Continua nella missione, Bishop. Procedere al decollo. Fatto. Red Ground, qui? Red Ground, qui? Red Ground, qui? Quanti elicotteri? Eller, continuo a sentire rapporti su un deposito munizioni nei paraggi. Pare che abbiamo fatto centro. Ti sto inviando la posizione. Distruggilo e distruggerai qualsiasi speranza di ridurre New York a un ammazzo di rovine fumanti. Checkmate, qui è un fissione in carica. Contento la base alfa. Devo che la frattura sia da incendere. Bravo ragazzo. Ah, non dimenticarti degli elicotteri che rimangono. Non parlarmi come un cane. Un fallimento proprio come te, strozzo. Chiedilo pure a tua madre. Un fallimento proprio come te, strozzo. Chiedilo pure a tua madre. Su, via. Per come la vedo io. L'ho aiutata. E poi l'ho aiutata ancora. Mi è debitore. Dunque è così che la vede, eh? Sa che è vero. Il punto è... Lavoriamo bene insieme, Eller. James, andiamocene da questo luogo. Dimentichi Mercer. Potremmo costruire qualcosa di nostro. Saremmo una bella squadra, non crede? Non voglio trovarmi tra lei e Mercer. E probabilmente mi prenderei qualcosa. Colonello, è qui. Raleigh, ascolta qui. Il sergente James Heller ha una figlia, Maya Ellison Heller. Attualmente viva e in custodia. Ce l'abbiamo noi? Non noi. Un paio di agenti federali che hanno deciso di piccare il naso. Ora ce l'ha un idiota del cazzo di nome Griffin e io non ho accesso. Dove si trova? A saperla. Se ce l'avesse a portata di mano, la metterei in un angolo, le darei un lecca-lecca e aspetterei che quel bastardo si facesse vivo. Dica ciò che sappiamo e gliela porterò. Lei non farà niente. Ci penserò io. Dana, sono io. Ascoltami. So chi ha preso Maya. Si chiama Griffin, quel pezzo di merda. È un agente del governo. Fantastico. Ok, Griffin, faccio un po' di ricerche. Ok, anch'io. Sembra che sia. E' su quell'elicottero. Base numero 19, qui Catapult 33, in arrivo con l'agente Griffin, abbiamo un marco per il punto giù contro, passo. Catapult 33, via libera. Mantenete la ruta, passo. Ricevuto, Redick now. Mantenete la ruta, passo. Catapult 33, qui Redick now. Fate rapporto, passo. Redick now, ci siamo quasi a questa linea di minuto, passo. Catapult 33, qui. Redick now, voglio un rapporto sulla consegna del VIP, passo. Redick now, siamo sul posto. Stiamo portando il VIP al sicuro, passo. Ricevuto 33, all'arrivo attendete ulteriori ordini, passo. Perché aspettare, perché non ucciderlo ora? Aspettiamo, perché Mercer ce l'ha ordinato, e non intendo... Oh, guarda, il cocco del prof. Lasciatelo, subito. E se invece ti ammazzassi? Red Crown, qui Oscar Seilina a November 1-9. L'agente Griffin è stato rapito da quattro soldati infetti. Attendiamo ordini, passo. Comandante Lawrence, qui Red Crown. La vostra missione è recuperare l'agente Griffin, passo. Red Crown, sono spariti, sono veloci come dei fulvi di cazzo. A superunità, qui Red Crown. Ecco un VIP, si chiama Griffin. Uccidete quello stronzo, non lasciate che si avvicini a Griffin. Siamo in tre contro uno, Eller. Non c'è speranza. Non c'è speranza. Non c'è speranza. Non c'è speranza. Dove sei, puttanella? Eller, io so dov'è tua figlia. Posso permetterti di raggiungerla? Certo che puoi. Dici come ti chiacchia. Vi prego, non spiegate la luce, non urlerò più. Giuro che non urlerò più. Dici come ti chiacchia. Maia Eller. Qui Griffin. Voglio un trasporto per Maia Eller. No, non è un esperimento da gentile. Portatela al laboratorio del dottor Carlson e preparatela per l'operazione. Pezza di merda. Lo sapevo che avrei dovuto farti a pezzi. Donna, mi servono dati su un certo Carlson. Lavora nello stesso settore di Griffin. Farò del mio meglio. È difficile trovare notizie su quell'organizzazione. E se chiedessi informazioni al colonnello Rutz? D'accordo, lo farò. Ascolta, sei al rifugio? Ti devo chiedere una cosa. Sì, passa pure. Vedo che sai come stabilire un perimetro di sicurezza. L'ho imparato su Cosmopolitan. Donna, devo chiederti una cosa. So che non ti piacerà, ma... Ascolta, devi restare al sicuro. Se io dovessi morire, voglio che tu ti prenda cura di Maglia. James, io non... Io non... Non saprei neanche... Non c'è nessun'altra. Non c'è nessun'altra persona. Grazie. D'accordo, sto andando a trovare Rutz. Per scoprire dove questo dottor Carson del cazzo ha rinchiuso Maglia. Bene. Hai già pensato a cosa gli chiederai? Basta domande. È il momento di trovare Rutz. Ok, ti mando le sue coordinate. Non c'è nessun'altra persona, non c'è nessun'altra persona, non c'è nessun'altra persona. No, dovrebbe bastare. Già. Com'è andata poi, io di sera? Oh, molto bene. Magnifico. E come sta il mio tesoro? Non lo so. È che ci sono parecchie variabili. Ancora altri sei mesi, forse. Lo so. Ti amo. Anch'io. Maledizione, Raleigh. Dovrebbe mettersi un campanello. Mi dispiace. Ho un'idea. Può rintracciare il dottor Trey Carson. Carson lavora per una divisione speciale di bioarmi a Quantico. Dove vuole arrivare? Se trovassimo la figlia di Heller, lo avremmo in pugno, giusto? Ho sentito qualcuno di Rattler 2 parlare di un certo dottor Carson. Credo sia con il suo griffin. Vorrebbe contare su Carson? Hai idea di cosa potrebbero farle quei governativi del cazzo? Vuole davvero Heller? Le farò sapere cosa scopro. Ehi, sono io. Come è andata con Rook? Diciamo che ora ho tutti i dati che mi servivano. Carson è qui vicino, in una base Blackwatch. Vado a prenderlo. Ok, invoca Lupo. Sta attento. Vado a prenderlo. Dottor Carson, è pronto ad andare? Un attimo, sono quasi pronto. Devo recuperare le ultime cose. Shamrock, il trasporto per il dottor Carson in arrivo in perfetto orario. Passo. Se lo vuoi, cazzo, un terremoto. Squadra di perimetro, individuate la causa dei disordi. Vicente, cosa c'è da fuori? Heller! Oddio! Aiuto! Portiamo Maya Heller nel mio laboratorio, agente Borden. Qui la sicurezza è compromessa. Ricevuto. Posizione? Ben lontano da New York Zero, grazie a Dio. Useremo due elicotteri. Lei salirà sul primo, io la seguirò sull'altro. Notizia da Washington sul mio consiglio. La sua richiesta di vivisezione è approvata. Finché non l'avremo aperta, non sapremo quanto vale. Pegli di buttare. Pegli di buttare! Dottor Carson, siamo pronti a prelevarla, ma non possiamo atterrare finché quel inconveniente a terra non sarà risolto. Passo. Ricevuto. Ricevuto. Speriamo che qualcuno possa salvarci le chiappe da quel casino là fuori. Ah, è sicuro. Passo e chiudo. Ascetto. Concentro. Samrock! Autolia a scatto! A tutte le unità, convergete, concentrare il fuoco. Dottor Carson, bomba di due uomo. Successi una sconfissa mentre ci ritroviamo questo casino. Passo. Speriamo! Prendete appunti, si fa così. Fallista 2-1, non potete atterrare. La zona ad atterraggio prunica di infetti. Samrock 4-2, all'ordine di estrarre il dottor... Speriamo! Speriamo! Samrock 4-2, tutti gli infetti sono morti. Dottor Carson, occupa di statunemolo. Ora cercherò di portarla via. Pilota, sono pronto al recupero. Devo raggiungere Maya Eller il prima possibile. Sarcaporto, dottore. Il dottore è uscito, pezzo di merda. È il tempo di rinunciare a tua figlia, Eller. Alex Mercer ha già dei piani per lei. E tu non sei previsto. Fatelo a pezzi! Non ho tempo per questo. Se c'è che non va, non abbiamo rotto le palle a nessuno, giusto? Ho tempo per ucciderti, non preoccuparti. E tu non è tu? E tu non è nulla. Posso chiedere per chi, signore? Mi interessa la sua composizione genetica. Inoltre, voglio che James Heller veda tutto ciò che le farò. Di persona. Merda! Raleigh. Sono Rux. Le sto mandando delle coordinate. Mi raggiunga lì al più presto. Ho delle informazioni su Maya Elf. Arrivo subito. Qui Raleigh. Sì, sono qui. Lei dov'è? Proprio dietro di te, figlio di puttana. Devi avermi preso per un idiota. Scompari di continuo, disobbedisci agli ordini. A chi rispondi? A chi rispondo? Per chi cazzo lavora? Merda. Per questo lo sapevi. Raleigh è morto. Tutto questo tempo... ...eri tuo. Rux. Mi importa solo di riprendermi Maya. Non cercare di fermarmi. Ti prego. L'hai trovata? Sai dirmi dov'è Maya? Mi dispiace, James. Mi dispiace molto. Io le ho provate tutte. Allora! Ho qualcosa per te. Rivuoi tua figlia? Vieni a prendertela. James, aspetta. Il segnale è stato trasmesso su Blacknet. Può averlo sentito chiunque. E allora? E quindi anche Alex sa dove si trova. È una trappola. Non puoi lanciarti a testa bassa. Lo vedremo. James, l'ho localizzato. È il quartiere generale della GenTech. Come farai? Voglio solo riuscire a entrare. Checkmate. Qui Red Crown. Domanda. Qual è la vostra missione? Fatto. Red Crown. Vi assicuro che quando avrà finito, la Blackwatch non si dovrà più preoccupare di L. Di cosa cazzo è fatta questa porta? Lox! Aprimi, bastardo! Lo farei volentieri, L. E' una Red Crown al controllo dell'edificio. Se rivuoi il Maia dovrai lottare per entrare qui. Quanti. �� a pagare qui. Ho potuto. La pona part timeline è arrivata che. La pona partire. O che cuore! La pona partire è entrata, La pona partire è arrivata. La missione resta in variata. La missione resta in variata. La missione resta in variata. Convergete sulla barricata e ingaggiate i nemici. Non lasciateli entrare nella struttura. Sono qui per Maya. Lo so. Ma che cazzo? Ora fammi un favore. Porta via tua figlia da questa cazzo di città. Tesoro. Papà! Avrebbe dovuto saperlo, Ellen. Se non è con me... ...è contro di me. Non faccio aspettare armi. Non faccio aspettare armi. James! James! Cos'è successo? James! L'ha presa. Cosa? Chi è stato? Quella merda di tuo fratello. Oh, merda. James, fai quello che devi fare. Quello non è mio fratello. Non più. Dov'è Maya? Al sicuro. Per il momento. Tu me lo dirai! Di tua volontà! O dopo che ti avrò svuotato il cranio! E risucchiato tutti i ricordi! Oh, che paura. Non ci arrivi, eh? Ti ho concesso tutto. Ed è così che mi ripaghi. Non capisci cosa sto facendo? L'umanità è stagnante. Morente. Io le concederò un unico corpo. Un unicamente. Pensaci. Niente più conflitti. Niente più malattie. Niente più sofferenza. Non capisci? Le sto dando una seconda possibilità. Basta! Con i tuoi fottuti deliri da pazzo! Bastardo figlio di puttana! Ridammi mia figlia! No. No, non credo proprio. È tempo che tu mi dia qualcosa. Vedi, la piccola Maya possiede lo stesso ceppo del tuo DNA supercorazzato. Quando sarà pronta, tua figlia diventerà la madre del nuovo mondo. l'unica cosa che sta tra me e il vero destino della Terra sei tu. E' un po' di pochettino della Terra Oh, cazzo. E' un pochettino! Servirò le tue chiappe su un piatto d'argento. Se continui a saltellare in giro, ti strapperò la spine dorsale. Ehi, direi che sei davvero un caffone. Fai più tanto lo sbaccone, eh? Fai più tanto lo sbaccone. Tu saresti quello da sconfitto. Ci hai provato, cazzone. Non ti ha provato, riesci ad adattarti. Sono troppo veloce per te. Siamo arrugginiti, eh? Cosa ne pensi? Brutto è! Combina il terzo! Sofìa, Ed. Sostresti essere il padre del nuovo mondo. Ora so che puoi davvero farmi furiare. Non fai più tanto lo sbaccone. Tu devi tenere la tua lampa. Bene, ora mi fa perrabbiare. Voi. Ehi. Lo sbaccone. Ehi. 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 Non manca. Flexi. Buon aterraggio. Un ottimo guerriero. Mi ho insegnato. Non mi ha insegnato un cazzo. Ci servirò le tue chiappe su un piatto d'argento. Avrei dovuto farti il lungo giorni. Sosti in più quel sorrisetto sulle labbra, eh? Carrazza di colpo è Fammi vedere cosa sai fare Carrazza di colpo è Benvenuto in cima alla catena Tutto questo è soltanto colpa tua E tu lo sei bene Ciò che so è che un tempo avevo un fratello Un ragazzo di nome Alex Un ragazzo che giocava con me Tattinava con me E guardava film e aveva l'oro con me Ora so che Alex È morto Non sono più vincolato dalla vita e dalla morte Sono passaporte E anche il Manolo ancora Un ragazzo di colpo è James, grazie a Dio. Maya! Stai bene. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.